Al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Milano e condotta dai poliziotti del Centro Operativo per la Sucurezza Cibernetica della Lombardia, in collaborazione con la Polizia Judiciaria Portoghese e con il supporto di Europol, è stata individuata un'organizzazione criminale transnazionale specializzata in frode informatiche e dal riciclaggio di criptovaluta. Nel corso dell'operazione internazionale denominata Trust sono stati eseguiti un arresto e 12 perquisizioni domiciliari di informatiche, il sequestro di numerosi dispositivi elettronici e di centinaia di migliaia di euro in criptovaluta. Le attività in Italia sono state eseguite a Milano, Monza, Lodi, Roma, Torino, Cagliari e Nuoro. Le indagini avviate a seguito della denuncia di due giovani imprenditori milanesi hanno permesso di ricostruire un sofisticato schema di truffa denominato RipDeal che ha colpito vittime in tutta Europa e che consiste in un complesso raggiro tecnico-informatico che colpisce operazioni di scambio di valuta digitale. Le indagini internazionali, durate oltre un anno, hanno permesso di identificare i membri dell'organizzazione e delineare i loro ruoli, adescatori ed interlocutori con le vittime, originari dei Balcani e per lo più residenti in Francia e riciclatori di criptovaluta, prevalentemente asiatici, ma stabiliti in Italia. Le vittime individuate provenivano da Austria, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Italia.